salve a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale esperton e benvenuti bene oggi di cosa voglio parlare voglio parlare del mio impianto fotovoltaico di come è andata la produzione nel 2023 partendo da gennaio per arrivare fino a dicembre di quali sono stati mesi che abbiamo prodotto di più e se il nostro impianto fotovoltaico si è comportato bene benissimo allora vi dico già che il primo anno non abbiamo avuto nessun problema per quanto riguarda il blocco dell'impianto problemi con l'inverter eccetera perfetto tutto perfetto il mio impianto comunque è un impianto zcs azzurro in un'azienda italiana abbiamo le batterie della hueco tre batterie sempre da 5 kilowatt quindi abbiamo 15 kilowatt di accumulo nominali sappiamo che comunque la batteria sotto dal 20 per cento non la facciamo mai andare proprio per impostazione in modo da salvare la batteria perché sappiamo che le batterie sotto il 20 per cento iniziano avere dei problemi e analizziamo un attimo com'è andata nel 2023 a gennaio ho portato a casa anche la twingo elettrica quindi l'auto che vado a lavoro l'auto che uso normalmente di cui nel 2023 ha fatto 13 mila chilometri quindi devo analizzare anche che in questi dati c'è caricare la batteria alla mia twingo ed è una macchina di tono di petrol che ho fatto 13 mila chilometri nel 2023 quindi le analisi che andremo a fare dobbiamo calcolare anche che abbiamo comunque la twingo elettrica abbiamo l'impianto abbiamo il nostro piano induzione quindi non abbiamo consumo di gas abbiamo la pompa di calore per quanto riguarda l'acqua sanitaria solo l'acqua sanitaria non per quanto riguarda l'iscaldamento e abbiamo usato i climatizzatori anche per riscaldarci un po quindi un aiuto anche da parte di quello quindi abbiamo cambiato un po il sistema di vivere e di usare altre fonti per il con la nostra caldaia a metano e perché abbiamo comunque dei termosifoni e delle alte temperature in più abbiamo anche tanti termosifoni quindi al momento sono sconsigliate le troppe di calore elettriche bene allora userò non l'applicazione che abbiamo qui del nostro computer perché mi mancano alcuni dati che non riesco a trovare per quanto riguarda il computer e quindi utilizzerò l'applicazione del mio smartphone che secondo me è più completa e più veloce e intuitiva da capire quindi adesso vi metterò qui la mia applicazione e man mano vi spiego i dati che vado ad utilizzare ok questa è la nostra applicazione si chiama azzurro system come vedete oggi siamo il 10 gennaio siamo nella pianura padana siamo in provincia di venezia e quindi perché vi dico questo perché non è uguale per tutti nel senso che noi abbiamo un problema qui nella nostra zona che come è stato dicembre abbiamo avuto più giorni di nebbia tra virgolette nuvolo nebbia e nuvolo che non volevano non andar via quando invece a 25 30 chilometri da me già c'era il sole c'era sereno essendoci il nuvolo o la nebbia come si vuol dire nuvole molto basse questo impedisce ai raggi solari di battere nei nostri pannelli fotovoltaici e quindi di produrre a 25 30 chilometri da qui in provincia di sempre in provincia di venezia avevano il sole perché ho degli amici che abitano e stavano producendo tranquillamente quindi da prendere un po' con le pinze dicembre e anche l'inizio di gennaio poi fatemi sapere anche voi se siete da altre parti d'italia come sono come è stata di sicuro in sicilia sarà stata diversa in campagna diversa in basilicata diverso ma è giusto per capire anche come funziona al nord al centro e al sud ti ripeto sarebbe bello portare i dati di tutti tutte le persone che ci sono magari che vedono questo video e vedere le differenze di come è andata la produzione proprio nei mesi più bui quelli di novembre dicembre e quello che sarà di gennaio bene quindi adesso vediamo la nostra oggi ho prodotto 9 kilowatt e 13 mentre già ieri era diversa la produzione vedete che adesso ha finito di produrre sono le 5 di sera e adesso stiamo pescando dalla batteria quindi l'accumulo sta prendendo l'energia direttamente dal nostro accumulo che sono 15 kilowatt ma abbiamo solo la batteria 40% produzione molto bassa ma quello che ci interessa a noi è vedere come è andata l'anno quindi andiamo nella nostra applicazione vedete gennaio 10 ieri abbiamo prodotto un po' di più perché è stato più sereno poi abbiamo l'otto dell'uno eccetera adesso però andiamo a vedere per quanto riguarda l'anno 2023 selezioniamo e questo è il nostro anno come vedete c'è gennaio 2023 che parte basso poi saliamo e gennaio dell'anno scorso abbiamo prodotto 209 kilowatt il febbraio 336 e vai a salire già marzo si è triplicato la produzione 603 aprile 809 maggio 862 per arrivare poi a giugno addirittura un megawatt e 60 poi luglio un megawatt e 30 qui iniziamo a calare 867 settembre 748 ottobre 415 vedete già novembre 2,60 e qui vorrei vedere dei dati per quanto riguarda il sud o il centro Italia vedere com'è o nelle zone montane dove c'è il sole magari siamo su una vallata dove c'è sempre il sole però non c'è la nebbia o il nuvolo che può venire che abbiamo qua vicino poi dicembre scarsissimo 191 kilowatt però vabbè sono sempre dei 191 kilowatt risparmiati questo è il primo semestre come vedete sale fino a giugno che è un megawatt e 60 o un 1061 kilowatt ora come volete dire e poi riscende per finire vediamo appunto che abbiamo basso, media, basso è stato il mese che abbiamo prodotto di meno la media dei sei mesi e l'alto quello che abbiamo prodotto di più per un totale di 3900 kilowatt e 3500 kilowatt quindi fate la somma e vediamo quanto abbiamo prodotto scusate sono uscito qui abbiamo la batteria quanto si è caricata adesso volevo far vedere sempre anno scusate perché ed eccola qua questo è anche il riassunto del 2023 per quanto riguarda la batteria vedete abbiamo caricato un totale di 2455 kilowatt e scaricato il 2088 quindi comunque abbiamo recuperato dall'accumulo 2455 kilowatt su un anno ok quindi caricare l'auto far funzionare i pannelli scusate il climatizzatore durante la notte eccetera questa è tutta energia recuperata dalla batteria dall'accumulo di sicuro ha aiutato tantissimo qui sono divisi per semestri mentre l'altro era il totale vedete comunque c'è sempre uno specchio di come funziona adesso volevo farvi vedere un altro dato che secondo me è molto interessante e qui andiamo sempre su anno 2023 seleziona e qui abbiamo fatto il riassunto ecco questo è riassunto visto in modo molto veloce cioè visto direttamente una torta cosa significa che abbiamo autoconsumato dal nostro impianto fotovoltaico il 75,90% quindi siamo stati autonomi per il 75% che non è male manca quel benedetto novembre dicembre che purtroppo è così abitiamo qui non posso spostarmi bene allora l'energia consumata è stata di 7254 kilowatt di cui prelevata la rete 1761 cioè il 24,3% è stato prelevato quindi su 7200 kilowatt 1760 le ho prelevati che sono il 25% quindi vedete quella fetta che vedete dalla rete produzione invece qua abbiamo non immessa e immessa cosa significa che quella immessa è l'energia elettrica che io ho venduto cioè che ho ceduto al nostro ente di energia in questo caso cosa significa che oltre all'energia per la mia casa per quello che riguarda caricare le batterie d'accumulo le batterie dell'auto abbiamo immesso il 16,8% che in questo caso qua sono 1245 kilowatt sono circa quello che abbiamo prelevato dalla rete quindi se noi andiamo ad aggiungere questi kilowatt qui a toglierli da quelli che abbiamo consumato siamo quasi là quindi secondo me il calcolo dell'impianto fotovoltaico è stato fatto quasi a regola d'arte quasi essere autonomi al 100% dico quasi poi vanno in gioco tante altre cose lo so ma è giusto per farvi capire un attimo quindi questa è la produzione e di qua torniamo al consumo che è quello che vi ho fatto vedere prima comunque abbiamo prodotto praticamente produzione 7.418 kilowatt che non sono male te lo ripeto è stato un novembre molto piovoso un dicembre nuvoloso, nebbia, non ha piovuto però è stato piovoso quanto riguarda novembre e anche ottobre ci sono state un po' di a differenza di altri anni che magari c'è stato più sole magari più pioggia ma magari di notte ecco quindi con questo cosa voglio dire speriamo che nel 2024 a parte che siamo partiti subito con tanta pioggia i primi tre giorni veramente e adesso finalmente è arrivato l'aria fredda la bora per noi qui in Veneto e ha portato via tutte le nuvole e anche l'umidità in effetti stiamo vedendo i risultati in questi giorni di produzione bene, magari ci troveremo a inizio 2025 per un altro video per farvi vedere come funziona e tirare le conclusioni io sono soddisfatto perché comunque abbiamo avuto un buon autoconsumo abbiamo consumato tutto quello che è stato prodotto è stato ceduto il 16,8% se non avessimo avuto l'accumulo avremmo seduto molto di più però logicamente avremmo anche importato molto più corrente perché durante la notte il lavoro che fa la batteria dovremmo importarlo dalla nostra rete elettrica bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale è gratuito, non costa nulla a me aiuta tantissimo a voi non cambia niente però almeno così mi seguite per le novità e attivate il tasto delle notifiche se non volete farlo le tasto delle notifiche va benissimo lo stesso l'importante è che vi iscriviate al canale grazie a tutti e arrivederci